Sapevamo che l'Union Berlin è una squadra di contropiede, una squadra che può darti fastidio e pericolosa sui calci piazzati loro e questo l'abbiamo gestito bene, però abbiamo sbagliato questo corner sul fatto che si siamo fatti prendere, sul fatto che era possibile fare gol, però non abbiamo pensato a coprirsi le spalle. Quindi c'è solo una cosa negativa che posso rimprovere stasera, questa situazione qua, però non dobbiamo essere alla portata di un gol dell'avversario, che vuol dire che con tante produzioni di gioco, tante situazioni offensive e di fare gol, dobbiamo fare almeno il secondo gol e vincere la partita, quindi è questo che penso. Forse a parte una situazione dove c'era un giocatore piazzato meglio che quello che ha tirato, il resto Berlino, lo sapevamo noi che è una squadra che difende anche se è in grande difficoltà nel suo campionato e anche in Champions, sappiamo che è una squadra tedesca che non mola mai e quindi hanno difeso come lo sanno fare con fisicità, facendo dei falli, però sono bravi anche a costrattare i tiri e noi dovevamo essere anche più bravi a fare questo secondo gol. Ci vuole anche un po' di fortuna, però abbiamo anche preso un palo perché stavo dicendo che ne abbiamo fatto anche noi, poi un gol anulato che si può anulare, che si può non anulare anche, però così è anche con questi episodi dobbiamo vincere, siamo delusi del risultato, non del contenuto. Dobbiamo vincere al più presto, abbiamo l'opportunità di farlo domenica, nessuna gara è facile, lo sapevamo prima di questa gara, non sarà più facile neanche quella di domenica, però dobbiamo recuperare prima di tutto per avere fisicità e energia domenica e dobbiamo continuare la striscia di vittoria che abbiamo in campionato. Solo questo adesso c'è da fare e poi ci sarà di nuovo la sosta internazionale. Noi studiamo sempre l'avversario con molta attenzione e anche l'ultima partita che hanno perso non è che meritavano di perdere 3-0, perché l'avversario ha fatto 3 tiri inquadrati, però ha fatto 3 gol in casa dell'Union Berlin e noi siamo stati non in grado di essere più efficaci davanti, però sappiamo che questa squadra dell'Union Berlin non mola mai perché anche nella DNA del campionato tedesco tutte lottano sempre.